Gian Paolo Salone del Mobile il primo giorno però già si percepiscono alcune tendenze come dicono quelli bravi sui materiali ovviamente sui colori si è tornati un po' al colore tu ci sei sempre stato si è tornati e come al colore finalmente un po' di gioia un po' di poco minimalismo e beh era ora io sono felice di questo vedo tanto colore applicato nella materia che è una cosa che non è più solo superficie un po più sostanza c'è tanto lavoro sulla materia questo è molto interessante senti in ultimo un albergo avete fatto ultimamente avete raccontato delle storie anche attraverso Dante siete a Firenze eravate a Firenze però questo discorso di raccontare storie che non è lo storytelling una cosa un po' diversa quanto serve nel progetto oggi è il centro del progetto questa è una discussione che abbiamo affrontato varie volte ce la siamo discussano internamente la storia è il l'idea se non c'è un'idea forte di progetto non c'è una storia se non c'è una storia non c'è uno storytelling quindi lo storytelling non si scrive dopo a progetto finito non si inventa dopo si decide prima si decide diventa parte del mood del progetto se il progetto è costruito su un'idea forte la storia è già lì va solo scritta va solo raccontata deve essere parte del processo di sviluppo del progetto allora funziona tu hai come dire una visione anche molto internazionale la grecia e non solo ma soprattutto dalla grecia passano molte persone che arrivano dal mondo così come in italia quanta di questa internazionalità ti porti nel progetto ok la grecia è internazionale è però una specie di terreno neutro è talmente forte il paesaggio il lifestyle il food style è talmente forte l'identità greca o quantomeno ciò che nell'immaginario dell'identità greca che ben diverso che quasi è quasi intaccata da tutto c'è uno va lì per trovare qualcosa di diverso si sta formando un identità del luogo ed è ormai ha preso una sua una sua strada quindi l'internazionalità c'è ma viene portata in una in un linguaggio che è diventato la nuova grecia quella del lusso quella che non esisteva quando eravamo bambini esiste oggi siamo ancora bambini e si e ha dentro sicuramente e ha dei codici che ormai sono propri ha fatto dei codici sono discutibili certamente sono costruiti con un'ottica di accoglienza e di neutralità non è il lusso che vediamo qui non è la ricerca del prodotto che vediamo qui certamente è una cosa che però accoglie quasi tutti facilmente senti il mondo del bagno non rigenerazione ma anche lo stare una volta si andava in bagno poi si usciva velocemente da qualche anno ci si sta molto volentieri e si lavora anche mi viene da dire in bagno non voglio dire banalità però è così nel senso che il bagno lo dobbiamo pensare oggi come alle ritualità è un non è più uno su una scatola piccola in cui succede tutto ma è uno spazio che se si è possibile viene destrutturato e quindi diventa più interessante se viene destrutturato le singole ritualità si spezzano e diventano più interessanti più importanti ci si pone una te siamo in un'epoca in cui l'attenzione al proprio corpo è diventata un must e trasversale di genere di classe di tutto quindi questa rivisitazione il bagno passa per mettere al centro l'uomo l'attenzione che l'uomo dà a se stesso e la destrutturazione del locale bagno portare dividere il locale bagno tra area bagnata e asciutta e c'è poi l'area contemplativa per chi ha lo spazio per farla e anche quella di lavoro se vuoi senti per chiudere questo viaggio di andata e ritorno tra domestico e contratta un confine che non esiste più da tempo però ci sono dei quali dei paletti da mettere nel tuo modo di progettare ci sono dei paletti alcuni paletti te lo dà il contrat perché ti chiede funzionalità pulibilità durabilità con tutto quello che finisce in accentata che noiosissimo sono cose che fanno parte del processo di progetto è capitolato quello che piace a noi come studio come approccio al progetto è rompere queste accentate e andare a scavare a cercare ciò che è diverso magari cambiando punto di vista un po il gioco che facciamo è rielaborare il tutto cambiando punto di vista questo ti permette di mettere in atto a volte quando sei fortunato le cose vanno bene impiegare i materiali in un modo inaspettato e a volte risultato è sorprendente grazie grazie a te grazie giorgio